Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole, oggi ragazzi andiamo nella stratosfera con un acciaio ad altissime altissime prestazioni di Spyderco, un acciaio spaziale su un coltello spaziale che andiamo a vedere insieme. Grazie a tutti. Grazie. Ragazzi 15W pazzesco, pazzesco la sensazione, un rasoio non ha perso niente, facciamo altri tagli di canapone. E' arrivato anche Hellwood intanto inquadra Hellwood. Eccolo lì, così lo vedete anche voi, se ne va a mangiare ragazzi. Ragazzi paura, 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 paura. Non ha perso nulla in assoluto ragazzi, nulla in assoluto, rasoio pazzesco, 15W inimmaginabile. Non mi ricordo ragazzi, al momento un acciaio su un chiudibile che tenesse così tanto, perché il coltello è già usato, è due settimane che lo uso ragazzi, non l'ho toccato. Adesso abbiamo tagliato tutta sta roba, canapone cinque volte, non perde niente. Spettacolare, davvero spettacolare. Ragazzi vi faccio vedere anche questa cosa perché è da vedere. Ragazzi questo qua è il filo che ha tagliato il canapone prima cinque volte. Non l'ho toccato ragazzi, è impressionante quanto taglia, quanto non perda nulla, quanto è affilato, non si sente il rumore del taglio. Ragazzi, pauroso, pauroso, bocca aperta, bocca aperta, tutti in piedi sul divano. Eccoci qui ragazzi pronti all'unboxing di questo pezzo veramente spettacolare, targato Spyderco. Ragazzi, unboxing, non è proprio un unboxing perché a parte averlo già usato un paio di settimane abbondanti, sia a lavoro che in cucina, avete già visto le prove di taglio. Quindi sapete benissimo di cosa parliamo, ragazzi, parliamo dello Shaman in 15V. Ragazzi, ve lo faccio vedere che esce dalla scatoletta così siete tutti contenti perché alcuni ci tengono particolarmente a questa fase di spacchettamento. Quindi, ragazzi, tanta roba. Ve lo faccio vedere che c'è dalla scatoletta, ma la sostanza è tutta all'interno, ragazzi. Che pezzo, mamma mia che pezzo. Lo avete visto nelle prove di taglio. Ragazzi, imbarazzante. Questo mette via tutto il resto, ragazzi. mette via tutti. Acciaio imparagonabile. Allucinante. Allucinante. Andiamo a vederlo. Tra l'altro, ragazzi, il sacchettino non so neanche se è il suo perché, ovviamente, l'ho trovato nei cassettini il sacchettino. Era dentro col suo sacchettino tutto originale, ovviamente, ragazzi. Però adesso, rimontandovi l'unboxing, non so se il sacchettino è suo. Sacchettino anti umidità. Intanto mi stavano pungendo le zanzare. Il nostro bel adesivino. Eccolo qua che mettiamo qua tutto. Qui abbiamo. Eccolo qua. Il nostro fogliettino che potete andare a leggere tranquillamente. Ve lo leggete voi. Poi ve lo leggete voi. Ragazzi, fogliettino. Dentro qua abbiamo un altro fogliettino. Vi faccio leggere tutto. Poi ve li leggete da soli, questi fogliettini. E qui abbiamo sicuramente, ecco qua, lo shaman. La presentazione dello shaman. e tutte le sue cosine. Fatevi fermo immagine e leggeteveli, ragazzi. Ecco qua. Devo ringraziare tanto sia Danny che, ovviamente, mi ha spronato a prendere sto pezzo. Perché, ragazzi, è un pezzo che costa una gamba, praticamente. Mi è costato un rene comprarlo. Però Danny mi ha detto prendilo, prendilo. Perché, vedrai, è una cosa spettacolare. È qualcosa di incredibile. Provalo, provalo, provalo. Alla fine mi sono deciso a prenderlo. Tra l'altro ho in arrivo anche il PM2, sempre in 15V. E adesso godo, perché dopo averlo provato, ragazzi, goduria. Spettacolo goduria. E devo ringraziare anche l'amico Fabio Coulter. Andate a vedere la sua pagina. Pagina di vendita di coltelli, ragazzi. Coulter su Facebook che mi ha trovato questo pezzo a un prezzo veramente ganso. Che puoi dire prezzo ganso quando si parla di 330 euro. Ok, non è così ganso. Però, ragazzi, considerando tutti gli aumenti e considerando le prestazioni di questo acciaio, sinceramente vi dico, 330 spese, secondo me, bene, ragazzi. Spese, bene. Ragazzi, poi siamo sempre lì, eh. Stiamo parlando di un coltello, stiamo parlando di 330 euro. Ragazzi, 330 euro sono veramente tantissime, veramente tantissime. Però poi lo provate, provate le prestazioni usato sia in magazzino che in cucina. Due settimane abbondanti, ragazzi, è pauroso. Il filo di fabbrica, ovviamente, è veramente qualcosa di incredibile. Fa paura, ragazzi. Fa veramente paura. È filo di fabbrica, ovviamente. Filo di fabbrica, un tagliente laser. Ma, cioè, vi fa godere quando lo usate. Poi lo Xiaomi ovviamente non ha sviluppato nulla come movimento. Ma non siamo andati a pestarci sopra. L'abbiamo usato per quello che deve essere usato, ragazzi. Ragazzi, Danny l'ha stressato molto di più. Ho mandato dei video in cui batona, in cui taglia dei cavi così dalla corrente della massa terra, ragazzi. Così, ragazzi, io l'ho usato, ripeto, sia in magazzino che qua in cucina un paio di settimane. Che nelle prove di taglio che avete visto. Prove di taglio, ragazzi, che sono state impressionanti. Impressionanti perché, ragazzi, cinque volte il canapone non l'ha nemmeno sentito. I tagli, invece di essere cinque ogni volta, ne abbiamo fatti sette o otto. Andavo avanti ad oltranza. Il tagliente non ha perso nulla. Il taglio vellutato, setoso, taglio setoso che aveva all'inizio, ragazzi, non è minimamente cambiato. È rimasto identico, ha perso niente. Sembra che taglia addirittura di più. Ragazzi, le onde nella carta col filo che ha lavorato due settimane. E in più ha tagliato cinque volte il canapone così, più tutto il resto, fili elettrici, roba. Ragazzi, paura, paura. Poi lo Shaman è uno dei miei coltelli preferiti della Spyderco. In mano è una bomba, ragazzi. È veramente una bomba. Un coltello spettacolare. Questa è una sprint run con la lama, come vi ho detto, in 15V. Questo 15V è veramente un acciaio, ragazzi, pazzesco. Con quasi il 15% tra 14.5 e 14.9 di vanadio. offre la più alta resistenza all'usura di qualsiasi acciaio per utensili per lavorazione a freddo attualmente disponibile. Ragazzi, ovviamente è letto dal sito, eh. Ragazzi, abbiamo praticamente qui un acciaio pauroso. E in più, come se non bastasse, ragazzi, come se non bastasse, è stato chiesto di fare il trattamento termico alle 3B. Eccolo qui il loghino con le 3B di Big Brown Bear di Sean Houston. Sean Houston, chiamatelo... Sapete che io l'inglese non ci vado molto d'accordo. Sean Houston, comunque. Eccole qua le 3B di Big Brown Bear. Ragazzi, paura. Quindi trattamento termico speciale richiesto appositamente a Houston. Un acciaio pazzesco, attualmente non eguagliabile. Ragazzi, avete in mano una lama da paura. Poi parliamo di 330€. Sì, sono tanti. Sono tanti, vi assicuro che è un buon prezzo per questa presa. È un buon prezzo. Ho visto in giro pezzi a 400€, eh. Quindi è un buon prezzo. Però, ovviamente, parliamo di tanti soldini, ragazzi. Tanti, tanti soldini. Ragazzi, vi do due misure del coltello. Il coltello, nella sua interezza, misura 21 cm con questa lama di 9.1 con tagliente utile 7.9. Su uno spessore di 3.7 mm. Il coltello pesa 145 grammi. Ovviamente è cartellato internamente in acciaio. Eccolo lì che lo vedete. Il movimento è un compression lock. Ragazzi, spettacolare. Spettacolo. Vediamo. E mi esce anche col mio bel medio, ragazzi. Mi esce anche di aprirlo. Il movimento è scattantissimo, ragazzi. Ripeto, se lo apro io col medio lo potete aprire tutti perché non sono assolutamente capace di solito. Ragazzi, è veramente un bel pezzo. Compression lock. Eccolo qua che ve lo faccio vedere. Sapete ormai come funziona. Non mi voglio soffermare tanto sul coltello. C'è già la recensione dell'altro Shaman. Ragazzi, è tanta roba. È tanta roba. Guancette in G10 marrone per questa sprint run. E io gli ho messo il laccettino. Eccolo qua. Con qua il bead in titanio, ragazzi. Bello, bello, bello. Clip stone wash it che potete mettere ovviamente su ambo i lati. E anche sopra e sotto. Potete un po' mettere dove cavolo volete sta clip. È un bel pezzo, ragazzi. Veramente un bel pezzo. Così non mi è uscito ad aprirlo. E neanche adesso. Vediamo. Ok. Eccolo qua che l'abbiamo aperto. Ragazzi, davvero tanta roba. Allora, la nota negativa. Che poi per me non è negativa. Però so che qualcuno ci tiene. È il fatto che nell'uso passiva la lama. Vedete queste macchioline che si sono fatte sulla lama. È la passivazione, ragazzi. Comunque, è un acciaio che va a passivare. Se non lo curate, va a passivare. Sinceramente, metterci l'olio ogni volta che ci taglio il salamino o una zucchina. A me girano le palle. Il coltello, a parte essere asciugato e lavato dopo l'uso, non è mai stato oliato, ragazzi. Però va a sviluppare questa passivazione. Che a qualcuno può piacere, a qualcuno no. A me sinceramente piace, ragazzi. Vedete, fa queste macchioline proprio. A me sinceramente piace. Coltello spettacolare. in mano è una bomba. Però, ragazzi, le qualità di questo 15V di Spyderco... Qua bisogna levarsi il cappello, ragazzi. Non c'è nulla, 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 nulla di simile. È veramente impressionante quanto avessi la sensazione che tagliassi addirittura di più dopo le prove di taglio. Sembra addirittura che aumenti il tagliente invece di diminuire. È pazzesco, ragazzi. È pazzesco. Tagliente di fabbrica... Paura, ragazzi, paura. Sono veramente stracontento. Veramente stracontento. Adesso mi arriva anche il PM2 in 15V. Sono ancora più contento perché dopo aver provato le prestazioni di questo acciaio non si può che rimanere a bocca aperta. Eh, ma io c'ho quello in VG10 che non c'è poi lo sciamano in VG10. Io c'ho il coltello generico in VG10, in 440. Lo affilo una volta in più, lo affilo una volta in meno, però poi mi tiene il filo uguale. Ragazzi, è imparagonabile ad altri acciai. Questo 15V è imparagonabile. È pazzesco quanto taglia, quanto arriva affilato, quanto tiene il filo. Come si riaffila? Non lo so, ragazzi. Non so se è facile o difficile. Dan mi dice che è abbastanza facile. Però, ripeto, non è assolutamente un dato che vi do per certo. Perché non l'ho riaffilato. Ma un coltello così, che tiene così tanto. A meno che non andate a cipparlo. Ragazzi, qui date due stroppate e andate avanti una vita. Considerate questo. Perché quando prendete il coltello in 440, a furia di affilarlo, il tagliente sale, ragazzi. Cioè, capiamoci anche sull'usura di un coltello. Questo è un coltello che, in un uso normale di coltello, se uno lo usa tranquillamente per le sue gite, in cucina, per qualche lavoretto, ragazzi, questo coltello lo affilate dopo due o tre anni. Dai, non esageriamo. Dopo un annetto. Poi bisogna vedere l'uso che ne fate. Però, per farvi capire che questo è un coltello che veramente vi tiene il filo talmente tanto che vi dimenticate di affilarlo. Sulla affilatura, la prima volta che lo proverò ad affilare, vi dirò personalmente com'è. Per adesso, ragazzi, vi posso dire che è un coltello che, a livello di acciaio, secondo me, ragazzi, al momento, attualmente, non ha assolutamente uguali. Andiamo alle conclusioni finali. Spyderco Shaman con lama in 15V. Ragazzi, lo Shaman è sempre stato uno dei miei coltelli preferiti del famosissimo marchio americano. Però, ragazzi, qui il focus è sull'acciaio. Questo 15V fa paura. Ragazzi, fa paura. Ha un tagliente infinito, incredibile come taglia. Sembra che più lo usate, più aumenta l'affilatura, ragazzi. Qualcosa di spettacolare. Veramente mai provato nulla di simile. È un acciaio stellare. Questo acciaio arriva da Marte. Punto negativo o altro lato della medaglia. Chiamatelo come volete, ragazzi, il prezzo. A parte che è una sprint run, quindi dovete correre per trovarli. Adesso sono veramente difficili da trovare. Ragazzi, sono 330 euro. Preso bene. Una bella presa a sto prezzo. Da Curter, dall'amico Fabio, che ringrazio. Perché, ragazzi, adesso lo trovate sui 350, 370, 400 euro. Per un chiedibile. Sono tantissimi. Sono d'accordo con voi. È una cosa da maniaci degli acciai. Sì. Però, ragazzi, le prestazioni che dà questo 15V, sinceramente, io non l'ho mai trovate su nulla. Davvero spettacolare. Ragazzi, coltello che io, se trovate, vi consiglio assolutamente di prenderlo. Di provare questo 15V su altri modelli di Spyderco. A me sta arrivando il PM2, poi proveremo anche quello. Ragazzi, dallo Shaman di Spyderco in CPM 15V, dal parchetto del tagliagole tutto. Buona giornata e ciao! Ragazzi, piccola aggiunta al video solo per darvi una info. Ho ritrovato in questi giorni dal materiale che avevo girato questo inverno che pensavo di aver perso. Sono contentissimo di averlo ritrovato. Ho montato i video. Ovviamente ho il pile, il cappello di lana, la sciarpa e tutto quello che serviva per fronteggiare le intemperie della Brianza in inverno inoltrato. Quindi, ragazzi, non mi scrivete ma c'è di freddo ed è luglio perché sono video vecchi. Settimana prossima ne vedete uno. È l'LTV Wright Bushcrafter, piccolo Kepar della LTV Wright da venire assolutamente a conoscere perché è un gran bel coltello da taglio, ragazzi. Un bel coltello fisso da taglio da venire a vedere insieme. Ragazzi, questa volta dal parchetto del tagliagole è veramente tutto. Buona giornata e ciao! Ciao!